oggi anch'io ho fatto il vaccino ha un valore per me personalmente ovviamente straordinariamente importante perché è la strada per creare un immunità protettiva rispetto a sascovi 2 spero però anche che l'esempio della mia vaccinazione possa servire da ulteriore incentivazione per tutti gli italiani i vaccini sono sicuri i vaccini sono efficaci vacciniamoci tutti se vogliamo uscire da questa situazione soprattutto se vogliamo difendere le persone più fragili in difesa in particolare mi rivolgo gli operatori sanitari dicendo lo dobbiamo a chi affida il bene più prezioso che ha nelle nostre mani la salute io credo che gli operatori sanitari abbiano sufficiente maturità e sensibilità per aderire spontaneamente alla vaccinazione è chiaro poi che in caso di una adesione subottimale potrebbe diventare un prerequisito per poter svolgere un ruolo così importante come quello dell'operatore sanitario dobbiamo offrire il massimo delle garanzie di tutela a chi affida noi la propria salute sono convinto che un confronto che deve essere franco e trasparente aperto basterà convincere tutti